Sembra che a Fano ci sia una crescente moria di frigoriferi, silenti servitori domestici che ci consentono di preservare e gustare cibi nella loro integrità, forti scorte di surgelati e che ci regalano momenti di ristoro nelle calorose estati, con bibite e bevande fresche. Ma come tutti gli elettrodomestici hanno un fine vita e sarebbe giusto fargli fare un'onorevole uscita dalle nostre case, comportandoci nel modo giusto ed ecologicamente corretto e non buttarli in mezzo a una strada sbrindellati nelle loro parti come disdicevoli oggetti che tanto invece ci hanno regalato. Ora, fioriture superfue a parte, siamo a registrare l'ennesimo episodio di un'isola ecologica trasformata in discarica a cielo aperto. Sembra che l'assenza delle telecamere abbia fatto rifiorire la stupidità in alcune menti e visto che c'è un periodo di vuoto, prima che le nuove telecamere vengano reinstallate, tanto vale riprendere le brutte e vecchie abitudini. Quella di via Fratelli Zuccari è sempre stata, nel periodo invernale, una di quelle postazioni ecologiche più gettonate dagli smaltitori abusivi, forse per la desertificazione dovuta al calo delle presenze nelle abitazioni, ma che la presenza invece delle telecamere aveva fortemente arginato. Ora invece siamo punto e a capo. Oltre al povero frigorifero lasciato per strada, di cui abbiamo più volte, anche recentemente, vedi ex campo d'aviazione, denunciato la sciagurata decisione di farlo, è stato lasciato lì di tutto. Vecchi mobili, altri elettrodomestici, stendini di metallo che sembrano essere stati stritolati da un tritacarne ed altri residui casalinghi lasciati in occasionali sacchetti. Un po' un campionario completo di cosa non dovremmo lasciare a terra o vicino a un'isola ecologica, che si chiama così proprio perché tale deve rimanere. Confidiamo, dovendo rinunciare al buonsenso delle persone, nella asettica ed implacabile tecnologia per non dover più documentare questo scempio.